Vuoi dimagrire dopo le vacanze? Rimani con me e ti dirò cosa fare. Prima di tutto non bisogna mai fare diete drastiche perché il nostro corpo si stressa, si stanca e non raggiungeremo il nostro obiettivo di perdita di peso. Non iscrivetevi in palestra e andare tutti i giorni perché insieme alla dieta drastica e alla stanchezza dell'allenamento il nostro corpo si stanca e dopo una settimana rinunciate sia alla dieta che alla palestra. Quindi dieta equilibrata in cui mangeremo un po' di tutto, carboidrati, proteine, grassi, vitamine, allenamento iniziato un po' alla volta, massimo 2-3 volte alla settimana, bere tanta acqua, sorridere tanto e così raggiungerete il vostro obiettivo di perdita di peso costante in tempo e con risultati migliori. Quindi lo slogan di questo settembre è pazienza, costanza, equilibrio.